E andrei con me o senza di me? Ho visto esattamente ciò che ho sempre pensato di Donnie Wee Boy. Quella ragazza da sola non può proteggere suo figlio. Non è tuo figlio, Margaret. Jimmy è tuo nipote. Stiamo cercando un certo Donnie Wee Boy. Ha sposato la vedova di nostro figlio. Ha portato con sé il nostro nipote. Fate sapere che voi cercate un Wee Boy. Vi troveranno loro. Pensavamo di vedere il nostro nipote, dato che siamo in zona. Dato che siete in zona? Ma siate prudenti. Dove dievolo siamo? Siamo qui per vedere il nostro nipote. Non deve certo rendere conto a voi. E noi non dobbiamo rendere conto a te. Venite con noi. No, lui mi ucciderebbe. Lui è sua madre. Vostro nipote è un Wee Boy adesso. Sei con me in questo, vero? Certo che lo sono. Ha colpito Lorna. Hai colpito tua moglie? Così? Non cominciare quello che non puoi finire.